Come abbiamo fatto questo progetto per evitare quei momenti in cui i cani scappano dal proprio padrone? Per farlo abbiamo creato un oggetto che identifica il momento in cui un cane oltrepassa un'area prestabilita. Dopo quest'area prestabilita è in pericolo di scappare. Nel momento in cui oltrepassa quest'area arriva un segnale al nostro macchinario sonoro. Questo fa capire al padrone che il cane scappò. Per farlo abbiamo utilizzato due processori Arduino. Uno per il trasmettitore di infrarossi, infatti abbiamo utilizzato la tecnologia di infrarossi. Abbiamo programmato per rinviare ogni 5 secondi un segnale chiamato A90. Abbiamo programmato invece l'altro processore Arduino con il cicalino che mette il segnale sonoro. E il ricevitore infrarossi. Abbiamo programmato per ricevere il segnale A90. Abbiamo aggiunto anche un trasmettitore interno in modo che se dopo il tempo di questo trasmettitore non arriva un annuncio di A90, scatta A90. Edoardo è andato a dormire credendo che tutto fosse tranquillo, ma non sveva che la mattina dopo gli avrebbe riservato una pessima sorpresa. Fufi, Fufi, Fufi! Ma questo non accadrà più con DI, Dog Escape. Grazie alla nostra tecnologia infrarossi, il padrone si accorgerà sempre, e dico sempre, del suo animale che sta scappando. Come in questo caso. Fufi, Fufi, vieni qua! Fufi, vieni qua!